Sarà certamente il tema dell'edilizia scolastica ed in generale dei lavori pubblici uno di quelli importanti da affrontare subito nell'agenda della neosindaca di Campobasso Maria Luisa Forte. Dopo anni di vero e proprio fermo burocratico, nella seconda parte della legislatura appena passata a Palazzo San Giorgio, si è assistita ad un quasi contestuale avvio di più di un cantiere. Dalla zona dei Pazzieri al quartiere CEP ci sono stati abbattimenti e ricostruzioni di edifici scolastici o semplicemente nuove costruzioni. E tante altre se ne dovranno vedere, ad iniziare dal progetto della nuova scuola d'Ovidio a ridosso del centro, che tra l'altro è stato uno degli argomenti oggetto di discussione politica durante l'ultima campagna elettorale, soprattutto per la decisione dell'amministrazione pendastellata di alloggiare gli alunni in una scuola ponte a Selvapiana fino alla fine dei lavori o almeno durante parte di questi. Ma non basta. Sono iniziati i lavori per il centro sociale e culturale nell'area dell'ex macello. È previsto l'abbattimento e rigenerazione urbana anche dell'area della scuola Guerrizio, che sarà sede di un ufficio pubblico. Si potrebbe obiettare che tutto questo sia concretizzato in un periodo determinato della legislatura, ma tant'è, l'importante è che le cose si facciano. Ed è questo il punto. Campo Basso sarà beneficiaria di importanti finanziamenti, che potrebbero sostanziarsi in oltre 100 milioni di euro con i fondi del PNRR, insomma grandi opere per garantire le quali serve compattezza politica in Consiglio Comunale e anche unità di intenti, ma le premesse non sono delle migliori.